Questa è una breve poesia che è un titolo che... il titolo è molto lungo, non ho la poesia qui è breve. Il titolo è... Poesia che parte da una certa altitudine romantica per approvare a una concreta e corretta realtà relazionale. Questo era il titolo. Vorrei essere primavera per entrare da te in sicuro, senza bussare. Così come vorrei essere sole per illuminare la tua scena senza alcun bisogno di un tuo consenso. Così come vorrei essere vento per scompigliarti i capelli e carezzarti le spalle senza chiedere il permesso. Ma non sono primavera, sono un uomo. Dunque devo con incertezza bussare e accettare che tu non apri. E magari non insistere a bussare per dieci anni che ti rompo i coglioni.